E oggi cari amici siamo qua con un nuovo gioco, è arrivato finalmente Mr. Xantu Nuovo gioco fatto dagli stessi creatori di Smiling, X-Corp, Scary Doll, Evil Emily, Erickson Insomma, nuovo gioco degli Indie Fist, proviamolo subito insieme, ma come sempre lasciate qui sotto tantissimi like E se non siete ancora iscritti iscritti al canale con la campanella attiva Ma adesso direi di partire, cominciamo, cominciamo insieme con questa nuova serie che voglio portare avanti sia su questo canale Ma anche nel canale inglese, quindi tocchiamo play, si parte, ma non giochiamo nella difficoltà normale, facile, giochiamo in facile Poi mettiamo pure qua la intro, e si parte, si comincia Ok, vediamo, qui c'è tipo un filmato iniziale, perfetto Cos'è? Guardate, ha ottenuto la formula No, cosa? Eh, che nel senso, deve ottenere la formula prima che sia troppo tardi Funzionerà? Proviamo a vedere Guardate, c'è tipo uno scienziato dentro Eccolo lì Sarà forse lui Mr. Xanto? Proviamolo a scoprire insieme Eccola qua, ma caro amichetto Devo dire che stavolta ne ho fatto proprio una grafica bella horror No, che sta succedendo? E mi sa che non ha trovato la formula esatta a quest'uomo, mi sa di no Alcuni anni dopo, vediamo Siamo qua con la barca Oh, finalmente ho trovato la casa abbandonata nel lago Ali Ah, in accordo con i villaggeri, cioè con i, vabbè, gli abitanti del villaggio Si è fatto dire appunto il modo per raggiungere, per esplorarla Ed eccoci qua, siamo arrivati con la barca qui sopra l'isola Ma che roba, vediamo proprio meglio qua Ah, tipo una sorta di isoletta che sta in mezzo al lago Ah, beh, buono, dai, ci sta E lì davanti c'è una casa molto, molto grande Andiamo subito a qualche roba Ma, oh, ma subito qua, è che ci vanno gli jumps Che è sto brutto corvo, dove sei, dove sei che ti ammazzo tutto quanto Ma che roba Vabbè, e andiamo avanti A quanto pare dobbiamo intrupolarci in quella casa Lì dentro ci sarà qualcosa di particolare Ma proviamo a scoprirlo insieme Vediamo, vediamo, vediamo Allora, una cosa che diciamo non mi era piaciuta tanto dei giochi in di fist Era il fatto che le mappe e gli spazi erano troppo piccoli Questa volta devo dire che avremo a che fare con una mappa bella grande E sta cosa mi piace veramente un sacco Perfetto Dobbiamo entrare qua dentro È chiuso, è chiusa a chiave Abbiamo bisogno di una chiave appunto Che, vediamo se sta qui sotto Ok, chiave rossa Sì Che bello Apri qua Voilà C'è qualcuno C'è qualche roba Ma, oh Ma subito qua davanti Ti spiazzano No, 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 no Via, via, via Guardatelo, guardatelo Meno male che non mi ha visto Meno male Ok, qui c'è una spranga La dobbiamo utilizzare per una cosa No, 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 no Aiuto, aiuto È già qui dietro Subito Mi stavo per prendere Cioè, bastavo veramente poco Mi prendeva Ok, usiamo questa spranga qua Per aprire sta caverna Un po' me lo sono esplorato il gioco Quindi qualcosina la so Però dobbiamo avere molta attenzione Perché sto coso ci viene a prenderci Guardate qua Ma è pieno di siringhe sulla schiena Ma cosa ci ha fatto con tutte ste siringhe? Ma dove è andato? Ma neanche con l'agopuntura Mettono tutte ste robe Ma che roba Su, vattene via Mister Xanto Vattene via Eh, giustamente Ho fatto rumore Perché ho dovuto lanciare la spranga Ma è necessaria sta cosa Perché adesso Non so se voi ci avete fatto caso Ma nell'angolo In alto a sinistra Ci sono tipo le missioni Dovevo trovare 5 quadri Via, via, via Questo coniglio malvagio Veramente mi vuole insiringare tutto quanto Scappa, scappa, scappa Veloce, veloce, veloce Ah, ah, ah Vediamo meglio qui la mappa Tra l'altro Guardate, infatti Dovevo mettere i quadri qua dentro Ma ora come ora Non ne ho neanche uno Dobbiamo cercarli Dobbiamo andare in giro E cercarli Quindi vediamo qui sopra Va, piano superiore Vediamo qui Una parte di arma E me la prendo volentieri È ovvio che me la prendo Eh, sì, sì, sì Le armi ci serviranno Ci servono No come Found you Ma da dove è uscito fuori Sto cosa Ma lasciami stare Lasciami stare Brutto conigliaccio Veramente Adesso ti prendo Ti frego Ti faccio diventare un coniglio fritto Ti cuocio insieme alle patate Vedi che poi Lo smetterai di dirmi I found you Sai dove te lo metto Sto i found you Sai dove te lo metto Sto quadro Se non la smette Anzi meglio la spranga La spranga ci sta meglio Lì dietro Eh, penso che anche voi concordiate Quindi andiamo subito Di qua Ma cosa Ma non ci credo Ma ovunque Ok, metti qua dentro Quadro numero uno Inserito Aprimi sta porta Però anche sto personaggio Che non apre le porte E poi te le va a cercare Te le va a cercare Vediamo qua dentro Che cosa c'è C'è un bagno E ce ne andiamo qua Al bagnoto Quando Al coniglio Coniglio vieni qua Vai a cacare qua dentro Avanti che venirmi qua A rincorrere Eh, dai, su Che poi c'è la gente Che nei commenti Mi dice che la parola cacare È una parolaccia Non è una parolaccia È una cosa Che facciamo tutti Tutti quanti Andiamo in bagno Cioè chi è che non va in bagno A fare la cacca Ma dico io Eh, allora Vediamo se sto quadro Sta qui No Dobbiamo trovare la giusta posizione Sarà questo No Quindi saliamo nel piano superiore Perfetto Qui Ci sta bene qua dentro il quadro Eh no che non ci sta bene Oh Cosa Dove devo metterlo sto quadro Qua non ci sta Qui Qui dietro c'è tipo una posizione del quadro E non ci va No 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 Lasciami stare Lasciami stare Scappa 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 Dove dire che la parte più difficile Di sto gioco È quello di mettere i quadri Ma dai Allora Meno male che me lo sono Un po' esplorato il gioco Perché adesso so un po' La posizione dei quadri Questo mi sa che allora Va messo qui in fondo Qui dietro E perché altri posti Non ce ne sono Cioè Queste sono le posizioni dei quadri Ok Quadro numero due Inserito Ce ne mancano altri tre Quindi La cosa sarà molto molto dura Molto difficile Ma da dove è uscito fuori Ma da dove è sbucato Oh Ma brutto coniglio Quella siringa Sei dove te la picco Se non mi lasci stare E dai E su E fammi giocare Qua Ok Allora Dobbiamo andare da questo lato Perché qui Mi sembra che ci sia un quadro Che possiamo raccogliere Ed atto Eccolo qua Su su Prendi Perfetto Adesso Direi di uscire da quest'altro lato Così almeno ci evitiamo il coniglio cattivo Brutto Malvagio Su Perfetto Ok 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 Quindi Dobbiamo posizionare quest'altro quadro Ma io non vorrei mai beccarmi Sto coso brutto Ok Quadro numero Non lo so Quadro numero 3 inserito Ce ne mancano altri Due E cerchiamoli Vediamo dove stanno Qui Porta chiusa E te pareva E te pareva sto coso Lasciami stare Lasciami stare brutto conigliaccio Adesso ti Altro che friggerti con le patatine Ti frigo il cervello direttamente Ma che roba Ok Adesso Mettiamo qui sotto quest'altro quadro Lo dobbiamo inserire Qui non è stato già messo Qua è da quest'altra parte Vediamo Sì Ok L'ultimo quadro Ci manca l'ultimo quadro Non mi ricordo dove si trova Però adesso quest'altro quadro Non ne ho la più palida idea Quindi niente Ci vediamo appena lo troverò Sempre se sto coso mi fa cercare tutto quello che mi serve No No Via 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 No 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 Subito mi stava per prendere Eccolo qua Intanto ho trovato l'altro quadro Guardatelo Sta proprio di là Dobbiamo raccoglierlo Mamma mia Sto conigliaccio Qua che adesso Ma non sai neanche te che cosa ti faccio Una volta che esco fuori qua Vengo veramente Ti frigo Ti cuocio Ti cucino Come se fosse la cosa peggiore di tutta la sua vita Ok ma nel frattempo abbiamo recuperato tutti i quadri Metti qua dentro Perfetto Si si è sbloccato il passaggio segreto Una porta segreta Si però Non vorrei che il coniglio mi venga a prendere proprio mentre c'è il filmato Adesso vediamo qua E la porta E te pareva E te pareva che fosse chiusa Dobbiamo aprirla in qualche modo Però Allora Adesso vi dico qua Ne vi dico niente Ma dai Ma che roba È l'ultima vita Se mi prende qua sono fritto Sono veramente fritto Finito Finito Sono un panino fritto qua Ma che roba Ma seriamente Seriamente Mister Xanto Ma fammi fare le cose in totale tranquillità Dobbiamo andare sotto in cucina Perché c'è tipo una chiave segreta Adesso vediamo se riesco a recuperarla in qualche modo Stavo salendo dalle scale dove io dovevo scendere E proprio veramente te pareva Andiamo 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 Di corsa Allora qui guardate C'è tipo una chiave No ho sbagliato stanze tra l'altro E devo ancora un po' imparare bene la mappa Però guardate bene qua le stanze come sono belle grandi Allora qui dentro uno di questi piatti c'è una chiave Cioè guardate qua Io ci ho messo un'ora per cercarla Ho persino chiesto aiuto agli indifisti Loro mi hanno detto che la chiave si trovava in cucina Io venivo in sta cucina E non trovavo neanche mezza chiave Ma dai Adesso però dobbiamo salire di sopra Senza farci vedere Non c'era Da dove era uscito Ma dai Ultima vita Ultima vita Aspettate Ce la possiamo fare Ce la possiamo fare Ho quest'ultima vita Non la voglio sprecare Altrimenti qua veramente Almeno dentro la stanza voglio farvi vedere Che cosa c'è Almeno lì dentro Ok Io però c'ho paura adesso a passare di qua Ok Prendi Via 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 Appena in tempo Appena in tempo Mamma mia la concentrazione La concentrazione Entriamo subito qua dentro Perfetto Guardate qua che cosa abbiamo Abbiamo un flashlight E poi questo Dobbiamo scendere di sotto adesso Con la speranza di non beccarci Il coniglietto brutto Cattivo Che si trova sempre qui intorno Ok Adesso abbiamo recuperato una torcia Questa torcia Però Non ho le batterie Ora mi sono accorto che non ho le batterie No Questo non mi serve Batterie Perfetto Due batterie Via 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 Ok Andiamo di qua Dobbiamo praticamente Intrufolarci dentro sto tunnel Però abbiamo bisogno delle batterie Perché dovevo utilizzare la torcia Se ne andiamo di qua È tutto buio È buissimo E guardate adesso che cosa c'è qui davanti Un bel labirinto Ma che bello Spettacolare Vediamo 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 Qui però c'è un problema Cioè se io dovessi perdere tipo le batterie Cioè Se mi dovessero finire le batterie qua dentro Io che faccio Ora che sto bloccato qui A vita E come faccio Vabbè Andiamo di qua Corriamo da questo lato Anche perché le batterie non dureranno un eterno Mamma mia Io odio i labirinti I labirinti sotterranei Tra l'altro con la torcia addirittura Con la torcia Su Non ti bloccare Non ti bloccare Che qua Se no mi scade la batteria Mi finisce tutto E resto bloccato a vita Ma quanti scheletri che ci stanno qui intorno Dove sono finito Tra l'altro Mi sono perso Mi sono ufficialmente perso Eh sì Seriamente Non ho neanche il tempo Cioè guardate Mi sta scadendo la batteria Dai Dai Ce l'abbiamo fatta appena in tempo E abbiamo raggiunto il laboratorio segreto Di Mr. Xanto Ah 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 C'è però un problema adesso Cioè Io devo tornare indietro Cioè se no Seriamente Vediamo qua che cosa c'è Ma Allora c'è sto macchinario segreto Con vari cosi Vari pulsanti Devo dire che è un po' troppo arrugginito Ah ma qui ci sono pure le note Eh non le ho lette prima Mannaggia a me Mannaggia che mi sono perso tutte ste note Vabbè Vediamo qui intorno che cosa c'è Possiamo salir di sopra Vediamo qua No Cosa No Non mi son portato la spranga con me E quindi giustamente tutte ste cose qua Sono bloccate Cioè io adesso devo tornare indietro Devo rifarmi il labirinto Recuperare la spranga per ritornare una seconda volta qua dentro No Ecco se venite qua nel laboratorio di Mr. Xanto Mi raccomando Ricordatevi la spranga Se no veramente dovete tornare indietro Non potevano mettere tipo una chiave qua Un qualcosa Cioè un oggetto direttamente da qua Non si poteva fare Era molto più semplice Cioè no Cioè più che altro era più pratico Perché anche Mr. Xanto Cioè come fa ad entrare Cioè se lui vuole venire nel suo laboratorio non può Cioè sarebbe stato più Più carino Perché se no qua adesso mi devo rifare tutto da capo Poi se resto senza batterie con la torcia E veramente poi E come faccio Come si fa Intanto qua cosa ci sono Ah Test chimici Vediamo qua se c'è qualcosa di particolare Con la pipetta Devo tipo recuperare degli oggetti Io direi di fare una cosa Va Direi che magari in un prossimo video Ce l'andiamo a completare Perché devo ancora capire bene Cosa bisogna fare Ci sono veramente tante cose Da vedere insieme Quindi Voglio vedere È riuscito ad entrare Aspettate Forse Quindi si è ribaltata la situazione Via 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 Voglio vedere se la porta è aperta No Vabbè niente Ci vediamo il game over Vediamo qua No non continuiamo Vediamoci il filmato di game over Ma quanti Ma due ce ne sono addirittura Ma che Si sono clonati No Mister Xanto Grazie per esserti offerto volontario Per il mio esperimento No 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 Ma nessun Esperimento volontario No 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 Scusa Lasciami stare Niente E sono diventato Un esperimento Vittima di un esperimento Di questo coniglio malvagio Va bene dai Io direi di fare una cosa Va Direi che per il momento Posso venire quel video Fatemi sapere in questo Se il commento di cose Le pensate Spero che questo video vi sia venuto Se vi è piaciuto Mi racconta Spolliciate Che dividete Iscrivetevi al canale Con la campanella attiva Nel cittadino A prossimo video Come sempre Buon buon giornate Buon giornate Buon giornate Ciao a tutti E buon panino a tutti Buon giornate Buon giornate